Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata In questa puntata abbiamo ospito un cantautore, Wybe e a questo punto la prima domanda più spontanea per chi ci ascolta se dovessi descrivere oggi chi ha Wybe, ma soprattutto inserlo in un tuo testo di una canzone come lo scriveresti? Oddio, un testo autoreferenziale in cui parlo di me stesso sarebbe curiosa come cosa sicuramente mi descriverei come un rapper, si può dire cantautore mi sembra troppo formale poi qualcuno potrebbe fare accostamenti un po' troppo pretenziosi sicuramente mi descriverei come un rapper però che non si prende troppo sul serio e che ogni tanto gli piace anche cantare oltre che fare rap mi descriverei così punterei molto sull'ironia ecco dato che è una cosa che mi piace inserire molto nella mia musica sicuramente sarebbe quella A questo punto parliamo dell'ultimo singolo come nasce questo singolo? da cosa è tratto ispirazione? Allora, quando sale bene nasce da allora, innanzitutto voglio fare una menzione a Filo che è il ragazzo che lavora con me con cui ho pubblicato il singolo che canta nel ritornello e nella seconda strofa che purtroppo non può collegarsi oggi questo pezzo nasce dalla voglia di divertirsi e soprattutto l'intenzione della canzone è molto semplice quella di non far pensare l'ascoltatore almeno per quei tre minuti di canzone di liberare la testa di farlo prendere bene come dice il titolo nasce dalla voglia di divertirsi molto banale può sembrare banale come concetto ma secondo me è l'essenziale è un po' la base della musica per quanto mi riguarda E a questo punto parlerei anche del videoclip che si è abitato e quando nasce quest'idea di questa prima cosa questa 126 da dove esce? Questa 126 è del nonno di Filo e non ti dico il casino che abbiamo fatto per metterla in moto perché abbiamo dovuto collegare dei cavi non partiva è stato difficilissimo ma alla fine ce l'abbiamo fatta e allora questa il video rispecchia molto la canzone molto ironico soprattutto per il fatto che io sono in accappatoio mentre Filo è in giacca vestito bene, elegante diciamo che ci piaceva molto questa contrapposizione e quindi niente vuole un po' rispecchiare l'irriverenza della canzone per il resto è girato a Guarene nelle Langhe perché noi siamo originari di Alba in Piemonte e quindi niente questo paesaggio un po' idilliaco col cielo azzurro così voleva essere appunto anche un po' ironico in questo senso un po' nonsense quasi Nella realizzazione dei tuoi testi nascono prima le parole oppure lascia un bit un riff che quel momento ti gira in mente oppure possiamo dire che nascono anche a volte accentramenti insieme? Allora tendenzialmente il mio processo creativo è il seguente di solito la prima cosa a cui penso è il titolo quando penso a una canzone mi piace che il titolo sia un minimo accattivante un minimo originale dal titolo cerco una base che il bit può essere acquistato su internet oppure lo produciamo noi in generale il bit deve un po' seguire il mood del titolo e da lì poi nasce il ritornello che il ritornello nelle canzoni è sempre la parte più difficile da fare quindi una volta che c'è il ritornello poi è tutto in discesa e alla fine le strofe le strofe che poi vanno a sviluppare il concetto della canzone tendenzialmente è questo poi ci sono i casi però in generale il testo è sempre bene scriverlo quando già c'è una strumentale a disposizione in modo da da legare il tutto al meglio riesci a essere molto longevo con le parole oppure essere un po' più sintetico come nella lingua inglese ma allora dipende dipende nel senso dipende tutto dal concetto che si vuole far passare chiaramente il rap in un genere come rap non è facile essere sintetici perché impone una struttura metrica abbastanza serrata quindi di solito ci sono tante parole in una canzone rap proprio perché si va un po' più veloce però in generale cerco cerco di dire le cose nel modo migliore possibile senza ripetermi e senza essere noioso ecco è un po' quello la via di mezzo che si cerca di raggiungere ogni volta è suonato dal vivo e suonato dal vivo allora per quanto riguarda i live dici sì la musica dal vivo beh dunque allora noi ogni tanto facciamo delle esibizioni tendenzialmente nella zona di Milano quando ci sono degli eventi rap o comunque legati al nostro mondo diciamo che la musica dal vivo per quanto mi riguarda ma parlo a nome anche del di filo sicuramente è qualcosa che è bellissimo un parco giochi per noi è veramente andare in live cantare i pezzi in live con il pubblico che poi si prende bene a sua volta è la cosa più bella del mondo e quindi è veramente un divertimento c'è sempre un po' di ansia prima di salire sul palco ma quello è giusto che ci sia col tempo imparato ad apprezzarla e spesso è un problema quando non c'è perché vuol dire che alla fine se non c'è vuol dire che non te ne frega così tanto e invece è bello un po' quel brivido quell'ansia che poi si trasformi in adrenalina e per noi è molto importante l'esibizione dal vivo infatti un punto dicevo quando in cui sali sul palco davanti c'è inizialmente un pubblico che è silenzioso ma poi che parla perché quel silenzio che parla poi senti l'energia perché a volte il palco sotto è buio però senti poi l'energia che sale e che tu la trasmetti ma poi a quel punto questa energia che tu già ci hai raccontato perché in fondo scendi dal palco e incontri questi ragazzi questi ragazzi che ascoltano hanno sentito il tuo testo li vedi con gli sguardi sorridenti che dicono e poi oppure ti citano una frase tua del pezzo oppure ti fanno ti fanno domande e a quel punto la tua risposta che i rendi felice quale sensazione provi in quel caso? Ogni tanto capita ogni tanto capita e quella lì è la penso la gratificazione più assoluta vuol dire che sei riuscito a fare quello che se sei riuscito a fare bene quello che fai alla fine la musica che cos'è se non trasmettere qualcosa a qualcun altro e nel momento in cui vedi il pubblico cioè il destinatario della tua musica essere contento aver apprezzato la tua musica il tuo messaggio è una missione compiuta a tutti gli effetti quindi è veramente gratificante e io mi accorgo ogni volta che canto in live che l'esibizione dal vivo è tutta una questione di energia una questione di energia che tu trasmetti al pubblico che poi come dicevi tu a sua volta al pubblico trasmette di nuovo a te quindi è veramente veramente una soddisfazione ci sono gli artisti in cui ti sei portato dietro un pochettino che poi involuntariamente non è che copri ma hai fatto tu un po' quella parte musicale che sì assolutamente assolutamente io arrivo da ascolto tanto rap italiano e in particolare sono cresciuto con gli articoli 31 sicuramente se scrivo e grazie a loro loro Jax e poi chiaramente anche tutta la scena rap degli anni 2000 quindi i Club Dogo Marrakesh tantissimo e poi io cerco sempre di trarre respirazione da qualsiasi cosa ascolto cioè ogni volta che ascolto qualcosa dico ah bello quel pezzo di chitarra oppure è bello come usa le melodie lui fammi provare anche a me e quindi uno prende un po' i pezzi da tutto quello che ascolta per questo motivo a me piace ascoltare veramente qualsiasi tipo di musica io ho spazio da Fabrizio De Andrè ai Green Day ai Linkin Park a Fedez a Mezzosangue persone che magari rapp anche più più conscious rap inglese Eminem americano quindi la mi piace mi piace veramente e farmi condizionare dalla musica che ascolto senza appunto come dicevi tu senza copiare palesemente qualcun altro ovviamente cercando di mantenere un'identità ecco e a questo punto intanto progetti futuri allora progetti futuri al momento ci stiamo ancora occupando della promozione di questo singolo e io ogni lunedì faccio uscire pubblico su Instagram una strofa da un minuto infatti ne è uscita una oggi giusto due ore fa alle 14 una strofa su Instagram da un minuto in cui parlo di vari argomenti di ogni volta di un argomento diverso quindi al momento c'è questo progetto qua sempre attivo e poi ci piacerebbe uscire magari in estate con un altro singolo per ora per ora vogliamo andare avanti un po' a singoli per capire un po' per dare il giusto valore anche alle canzoni ecco per per raccontare una storia per ogni canzone che facciamo questa è la nostra intenzione poi citato Instagram il commento più sfizioso più particolare o più divertente che ti hanno fatto finora? ah il commento odio eh questo questo è bella eh diciamo che dipende dipende a volte arrivano commenti più più profondi magari nelle strofe un po' più profonde eh commenti in cui mi mi ringraziano eh per il per il lavoro che faccio eh o se no se no magari mi mi fanno dei meme sopra sopra la mia usando il mio nome eh comunque io posso ringraziare di avere dei fan oddio non so se possono essere chiamati così dei follower delle persone che mi seguono molto molto affiatate che che sono molto attive quindi li considero quasi dei miei amici e quindi è sempre bello quando commentano io poi rispondo sempre e si creano sempre delle belle situazioni degli scambi interattivi molto carini ecco e un'ultima curiosità siete arrivati a destinazione con la 126 nel video siamo arrivati a destinazione sì 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 ne siamo usciti vivi alla fine è andato tutto a posto non abbiamo neanche dovuto spingerla per farla partire è partita da sola ce l'abbiamo fatta siamo ancora vivi per fortuna la ringraziamo per essere per aver tenuto duro nella realizzazione di questo video ci siamo divertiti tantissimo e e quindi sì ne siamo usciti indenni stranamente allora noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite nostro e a questo punto ci mancano due cose fondamentali tutti i tuoi indirizzi dovete irsi raggiungere e saluti finali allora innanzitutto vi ringrazio io perché è stato veramente un onore fare questa chiacchierata grazie a te Pietro è stato veramente piacevole e allora io vi direi seguitemi su Instagram se vi va ogni lunedì faccio uscire questa strofetta da un minuto in cui parlo un po' di diversi argomenti chiocciola Waibe official qui è scritto W IBE official e se no su Spotify cercate quando sale bene dovrebbe uscirvi i saluti finali io ringrazio Sport Piceno Studio 7 TV grazie mille di questa opportunità di questa chiacchierata è stato veramente piacevole e niente vi auguro una buona giornata ragazzi grazie ancora Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro ospite della puntata bicchiera che voglio ancora bere quando sale bene c'ho ancora più sete e tira su le mani se adesso mi prometti